Durante il suo ultimo concerto tenutosi a Bergamo, Svere Basta ha fatto una sorpresa al suo pubblico Prendendo infatti suo figlio Gabriel in braccio mentre seguiva il brano Cini, uno dei suoi pezzi più iconici Portandolo così sul palco e facendo l'intero brano con lui in braccio per fargli vedere un po' il pubblico E per fare una cosa fondamentalmente mai fatta prima Non aggiungo altro ma vi lascio i filmati, noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio È un momento solenne Abbiamo un ospite speciale per oggi Bergamo ci siamo o no? Gini, Gini Come fa? Come fa? Come fa? Gini, Gini La C con la mano è da dove veniamo Gini, Gini Fatemi sentire un cazzo di casino per il re d'Italia Gabriel Gini, Gini... Gini, Gini Gini No, 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 no.